Amici ben ritrovati, un saluto a tutti, ospite Dario Cardani Ciao Dario, un abbraccio a tutti ragazzi Mi ha portato delle focacce per rincularmi un po' Io mi ricordo degli amici milanisti, la sofferenza in Andrea poi è tanta Sì ma lo vedo oggi, non lo vedevo da un mesetto Dario È tanta, è tanta, anche se ti devo dire che Allora il Milan secondo me se rimaneva in 11 contro 11 La partita probabilmente l'avrebbe portata a casa Per noi non abbiamo fatto nulla per vincere Anzi, io speravo che in 10 esprimessimo anche un gioco un po' più bello Diciamo e andassimo a fare anche il secondo gol Invece no, zero Mi dispiace però per i milanisti Ti ringrazio Il colpo è stato grosso E si vede anche dalla faccia di Andrea C'ha due occhiaie, mamma mia Dario però una cosa devo dire Indipendentemente dal risultato A me quella sceneggiata di Allegri Che fa il diavolo a 4 E va avanti e continua E si butta la giacca E si toglie la cravatta Vuole spaccare A me ha dato fastidio In generale fossi stato allenatore anche del Milan Avrei detto la stessa cosa Questo qui è questo qui Allora fa di quelle cose Che nel mondo del scaglio E nessun allenatore Ma allenatori importanti I cappello I trappattoni I conti Non l'ho mai fatto Ma questo qui è fuori di testa Non si può fare una roba Cioè non si può fare una roba del genere a me ha dato fastidio questo adesso io qui lo posso dire o è fuori di testa e come è fuori di testa io la società se fosse una società serie io lo richiamo perché allora se la partita sarebbe andata avanti ancora 10 minuti non si faccia c'erano i pantaloni no dico no dico ma questo qui secondo me io ho un'idea no c'è stata brutta cioè io ho un'idea su questo allenatore volgare a parte a parte il lato sportivo ma anche come persona questo non si può permettere di fare quelle sceneggiate qui perché allora lui lui ce l'aveva perché la Juventus non faceva non nascondeva la palla non nascondeva la palla ma 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 non è che puoi dirgli alla squadra nascondete la palla se tu poi non gliela insegni in settimana a nasconderla no hai capito ma questo ragazzi questo qui allora prima prima non mandiamo via è meglio è questo allenatore io continuo a ripeterlo sia dal lato sportivo sia da un lato comportamentale perché non è la prima volta che fa quelle sceneggiate Murillo nei suoi confronti è un saltarello quando fa quelle cose qui e abbiamo detto tutto hai capito grazie Dario un abbraccio a tutti Longoni forza mi raccomando la dura riprenditi presto perché andate a Napoli è il periodo a Paris Saint Germain non farvi ci pensi no Paris Saint Germain Paris Saint Germain tu di città Paris Saint Germain è dura non ci pensiamo grazie Dario un saluto iscrivetevi ciao ciao